Ruba bottiglie di champagne, ma non perché le porti via, no, nascosto tra gli scaffali se le scola, una dietro l'altra. Succede in una gastronomia di Vicenza, l'uomo è lo stesso che aveva già portato via alcuni alimenti senza pagarli. Quando si ripresenta a qualche giorno di distanza, il proprietario si allerta, chiama la polizia. Quando arrivano gli agenti delle volanti, però lui se n'è già andato. Grazie alle immagini di videosorveglianze, poliziotti scoprono che l'uomo si era nascosto tra gli scaffali e si era scolato sul posto ben quattro bottiglie di diversi tipi di champagne per un valore di quasi 600 euro. Gli agenti riconoscono il responsabile, è un mendicante marocchino che ha già ricevuto un foglio di via obbligatorio da Vicenza. Per questo è stato denunciato. Ora sono in corso le ricerche per trovarlo. Grazie a tutti.